Adesso stiamo vedendo ancora un welcome, io aggiorno la pagina e vediamo un welcome v2. Dallo sviluppo al rilascio su un cluster Kubernetes in cloud. Ciao, io sono Michele e in questo video vediamo un processo completo per rilasciare le applicazioni su un cluster Kubernetes in cloud tramite un processo completo TCI CD. Quindi utilizzeremo Azure DevOps e un cluster Kubernetes su Azure Kubernetes Service ma i concetti si possono applicare comunque di processo in generale e anche ad altri strumenti e piattaforme. Comunque se vuoi imparare rapidamente Azure DevOps ti rimando al mio corso su Udemy Azure DevOps fondamenti in italiano e al mio anche nuovissimo corso su Kubernetes, Kubernetes fondamenti sviluppato in collaborazione con la mia azienda Limeware. Potrai trovare i link in descrizione. Questa è un'architettura di riferimento che è un ottimo punto di partenza per un progetto di microservizi ma comunque non solo in generale all'interno di un cluster Kubernetes. Quello che andiamo a vedere in questo video non è tutta questa architettura ma andiamo ad evidenziare le parti di questo schema. Quindi andiamo, tratteremo la parte di CICD, la vedremo in movimento le Azure Pipeline che ci faranno il push della nuova versione di un'immagine su un registry. Non utilizzerò Azure Container Registry ma comunque utilizzo il mio Docker Hub personale ma comunque il concetto e l'infrastruttura viene visto. Andiamo poi, quindi questa parte la selezioniamo, andiamo poi ovviamente ad interagire con un cluster Kubernetes su Azure. Quindi questa parte la prendiamo che è integrato con Azure Active Directory anche se in questo video non parliamo di gestione di permessi, accessi e ruoli. E andremo a rilasciare dei servizi, ok, il nostro workload all'interno del namespace di default. Ci accederemo tramite un Azure Load Balancer con il nostro applicazione client che non è nient'altro che un browser perché quello che andiamo a rilasciare è un'applicazione front-end. Quindi questi sono i componenti di questo giro, di questa architettura di base che andiamo a vedere proprio per capire come si muovono i pezzi e come piattaforme come Azure DevOps si integrano perfettamente con il workload all'interno di un cluster Kubernetes. Servizi come la gestione di un database esterno, un SQL, un Cosmos sono lasciati fuori da questo giro e ci concentreremo appunto su quanto è evidenziato. Allora, vediamo subito le cose come si muovono. Qui sotto ho il mio Azure DevOps e qui vicino ho la mia applicazione web che sto accedendo direttamente, è esposta dal cluster Kubernetes, la vediamo qui. Quello che voglio fare è quindi fare un cambiamento a questa applicazione, vediamo tutto il giro dell'automazione e il rilascio della nuova versione. Allora, vado nei sorgenti, vado a cambiare l'home page di questa applicazione web, view home index, vado a cambiare welcome, ci metto welcome, facciamo versione 2. A questo punto io ho già la pipeline definita, non ci sono automatismi ma la faccio partire a mano, è questa qui. È dimostrazione, faccio run pipeline e la mando in esecuzione. Vediamo che parte, è divisa in due sezioni, abbiamo il build della immagine e il push nel mio Docker Hub Registry per la immagine e poi facciamo il deployment su Kubernetes tramite appunto il file manifest che è presente nel repository. Andiamo a vedere qui che cosa succede, viene fatto il checkout dei sorgenti, ingrandisco un pochino, viene fatta la build dell'immagine utilizzando il Docker file presente nel repository che è questo qui. Qui viene fatta la build all'agent ospitato dentro il cloud di Azure DevOps, lasciamo andare tutti i vari passaggi, il build dell'immagine è stato completato, vediamo anche in fondo la fase finale di push, eccolo qui. Vediamo che viene fatto il push nel mio account di Docker Hub e siamo a posto. A questo punto sarà l'immagine con tag 493, lo vediamo qui dai log. Parte il secondo stage di questa pipeline che fa tutto dall'inizio alla fine, va a fare il deployment della nuova versione all'interno del Kubernetes cluster andando ad utilizzare il manifest, il file manifest presente nel sorgenti. Allora il file manifest lo troviamo nella cartella dedicata a Kubernetes qui, c'è un file YAML attualmente molto semplice, dimostrazione YAML, c'è semplicemente il deployment, il service, il modalità load balancer che espone l'applicazione. Ovviamente non è un approccio da production ready, ma ci serve solamente per dimostrare il concetto, il giro di come si integra Azure DevOps, di come si integra tutto il giro di CICD diciamo con un cluster Kubernetes. Qui vediamo che all'interno del manifesto c'è scritta una versione fissa, ma poi scopriremo anche come viene risolto questo problema, perché abbiamo visto che prima abbiamo creato la versione 493. Qui il deployment è stato fatto utilizzando kubectl apply-f basandosi sul manifesto che ho appena mostrato e quindi dovrebbe essere tutto pronto. Per quanto riguarda la mia applicazione qui, adesso stiamo vedendo ancora un welcome, io aggiorno la pagina e vediamo un welcome v2. Quindi il giro si è completato con successo e andiamo ad esaminarlo passo passo. Ripartendo da questo schema andiamo a vedere, attraversiamolo un po' alla volta e andiamo a vedere tutti i vari pezzi. Quindi abbiamo continuous integration deployment su Azure Pipeline, quindi entriamo su Azure DevOps e vediamo qui nelle pipeline, nell'ho chiamata dimostrazione, andiamo a vedere. È una pipeline, la commentiamo velocemente, che è fatta di due stage, quindi due fasi. È una pipeline cosiddetta in gergo di Azure DevOps multi-stage, dove nella prima fase, nel primo stage, andiamo a fare il build and push, che non è nient'altro che composto dall'utilizzo di un task specifico. I task sono le singole operazioni che possiamo fare dentro una pipeline, ce ne sono già tanti, tantissimi di predisposti, oppure nel caso non ci fosse niente che fa a caso nostro, potremmo scrivere degli script custom. Ma in questo caso vado ad utilizzare quello relativo a Docker già presente, gli vado a dire dove si trova il mio Docker file all'interno dei sorgenti, gli dico come si chiama il mio repository su Docker Hub e gli do il comando di build and push con abbinati questi tag. Ovviamente sull'ultima versione dell'immagine che vado a creare ci metto il latest e poi vado a mettere questo tag che è una variabile che prende il build id. Ogni esecuzione di una pipeline in Azure DevOps ha un id univoco e quindi come tag in questo caso sto utilizzando un numero sempre incrementale positivo e ogni volta che viene eseguito quindi api crea una nuova immagine con il tag latest e abbiamo visto prima durante la demo il numero 492 mi pare. Ecco, quindi questa è la creazione della build. Ovviamente dentro i miei sorgenti ho il Docker file. Adesso che non stiamo ovviamente tutto a commentare ma è un tipico file, Docker file per un'applicazione AspNet MVC ma a parte questo dettaglio appunto c'è un Docker file che viene compilato, fatto build and push. Una volta che viene fatto build and push vado sulla parte successiva andiamo nel nostro schema, quindi abbiamo visto siamo arrivati qui, prendo il rosso così lo vediamo abbiamo visto la pipeline che può scattare a mano come l'ho fatta a partire io oppure con un trigger o con degli automatismi cambia poco, viene fatto il push. Siamo nella fase successiva adesso con l'Azure pipeline dovranno fare, eseguire i comandi interagendo con il cluster Kubernetes affinché venga fatto un pool delle immagini della nuova versione. Quindi ritorniamo sulla nostra pipeline ritorniamo qui e vediamo che nello stage successivo andiamo ad utilizzare quella che è la sintassi per fare dei deployment questo qui è un deployment semplicissimo utilizzo il cuore di questo approccio è il task Kubernetes manifest che è di nuovo un task già predisposto all'interno di Azure DevOps che permette di lanciare dei comandi con un cluster interagendo con un cluster Kubernetes quindi gli vado a dire all'interno dei miei sorgenti qual è il file manifest da utilizzare in questo caso è K8S dimostrazione YAML lo andiamo a recuperare è questo qui dove dentro appunto c'è un deployment che va a descrivere come voglio rilasciare il mio workload applicativo quante repliche in questo caso una, il container, limit e così via tutto quello che va a corredo di un deployment e poi il deployment viene diciamo l'applicazione viene esposta in maniera molto brutale di certo non è un approccio production ready ma insomma qui stiamo guardando più il macro processo che i dettagli implementativi lo esponiamo tramite un servizio di tipo load balancer e quindi andando a riconsultare sullo schema con un servizio di tipo load balancer succede che il cloud in questo caso di Azure andrà ad utilizzare dietro le quinte un load balancer e lo andiamo anche a vedere se vado dentro Azure cerco il gruppo di risorse mc underscore resource group questo qui è il mio cluster vediamo che qui dentro, qui sotto c'è un load balancer creato quando io appunto ho richiesto un servizio di tipo load balancer quindi abbiamo questo dettaglio implementativo che ci permetterà appunto di accedere dall'esterno con il browser quindi abbiamo parlato anche di questo tramite load balancer entrare e interagire con i pod che mi stanno erogando la mia applicazione e quindi abbiamo parlato anche di questo tornando nei dettagli implementativi un attimo della pipeline vale la pena far notare come questo task sia estremamente flessibile perché dà la possibilità appunto di cambiare il contenuto del mio dimostrazione.yaml che ha una versione fissa della mia applicazione qui dentro diciamo una sorta di segnaposto lo posso cambiare e gli dico guarda che in realtà devi utilizzare questo container e è Fenixita dimostrazione ma con il build id che mi prendo dalla pipeline che è in esecuzione in questo momento quindi qua sopra faccio il push dell'immagine con il tag che ha il build id che rappresenta questa specifica esecuzione e poi sotto mi andrò a fare il pull esattamente di quello che ho appena caricato nel mio registry un'altra cosa interessante questo task è flessibile nel senso che se avessi un deployment con tanti container che interagisce con tante immagini qui basterebbe metterli separati in riga per riga una cosa interessante da vedere è appunto che nei log di esecuzione di questa pipeline per esempio posso questo task mi dà un log molto dettagliato di quello che sta succedendo durante il deployment perché viene fatto proprio il comando kubectl apply-f con anche il namespace in questo caso di default e vediamo tutto quello che risponde il cluster ma non solo poi si mette in questo task si mette in attesa va a vedere lo stato del rollout con kubectl rollout status e resta a controllare lo stato quindi vediamo che la replica della versione precedente vengono azzerate e attivate le repliche i pod con la nuova versione ci viene detto anche successfully rolled out poi ci viene fatto il get service questo output potrebbe essere utile da analizzare in qualche modo se volessimo monitorare lo stato delle pipeline e così via farci delle statistiche o qualcosa e comunque ci viene preso il service con cui la nostra applicazione viene esposta e ci vengono date tutte le informazioni in particolare molto comodo anche per questi scenari ci dice che l'IP esterno della nostra applicazione è 4232 209 e 109 a cui poi effettivamente risponde e in cui sono andato a navigare con il mio browser infine va a fare delle aggiungere dei metadati con il comando annotate che ci permettono per esempio di capire qual è stata la run quale pipeline ha fatto effettivamente il deployment di questa applicazione per andare a avere una tracciabilità migliore di ciò che è successo e quindi in caso di problemi fare diagnosi e risalire all'origine bene per oggi con i deployment su un cluster Kubernetes ci fermiamo qui se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sulle prossime uscite ciao ciao